Nell'ultima apparizione stagionale alla Vitri Frigo Arena, la VL centra la decima vittoria che le consente ancora di sperare nella salvezza che si deciderà domenica prossima nell'ultimo ballo di Venezia. Una vittoria faticosissima per Pesaro che batte Cremona già salva con un 91 a 86 trascinato dai 24 punti di tambone. Ora, ad una gara dal termine, la VL resta sul fondo a quota 20 con Brindisi che però è già retrocesso. Davanti il terzultimo e quartultimo posto è condiviso a quota 22 fra Treviso e Varese. Per salvarsi la VL dovrà giocoforza vincere a Venezia ma non sarà artefice del proprio destino. Dovrà infatti sperare nella concatenazione di altri due risultati, la sconfitta di Treviso con Tortona e la concomitante vittoria di Varese a Pistoia, perché in caso di arrivo di tre o quattro squadre a 22 punti la VL sarebbe invece retrocessa nel calcolo della classifica Vulsa. Dal basket al calcio finisce invece il campionato della Vispesero che era già certa di disputare i play-out. L'ultimo turno compie però la missione di giornata, ovvero battere la Juventus Next Generation e sorpassare la Recanatese al quartultimo posto per giocare i play-out col vantaggio del campo e della miglior posizione in caso di parità di risultato nel doppio spareggio. Una combinazione che si crea grazie alla vittoria per 2-1 sui bianconeri e alla concomitante sconfitta della Recanatese con Lentella. Vische soffre ma che vince con gol nel primo tempo, prima Zagnoni di testa su corner, poi il pareggio Juventino di Sekulov, infine il gol vittoria di Di Paola su punizione al tramonto del primo tempo. Ottava vittoria stagionale, campionato chiuso a 39 punti e play-out con andata il 12 maggio a Recanati e ritorno il 19 maggio al Benelli. Dalla Serie C alla Serie D finisce l'annus horribilis del Fano che dopo 57 anni retrocede in un campionato regionale. Fatale la sconfitta 2-0 ad Avezzano che condanna Igranata alla discesa in eccellenza. Nel calcio 5 era invece già certa dei play-off little service ma nell'ultima giornata della regular season la squadra pesarese scende all'ottavo posto, ovvero la posizione meno comoda per affrontare gli spareggi scudetto, da opposta alla capoclassifica Olympus Roma. Un ottavo posto maturato dopo la sconfitta 4-1 al pala Megabox contro il Napoli dei tanti ex, a cominciare dall'allenatore degli scudetti pesaresi Fulvio Colini. Sul campo però Napoli ha una partenza devastante, 2-0 dopo 3 minuti, 4-0 a fine primo tempo. Un passivo solo addolcito dal gol di Juan Fran nella ripresa. Finisce il campionato e saranno dunque play-off con Roma. Si parte con gara 1 in terra capitolina da fissare fra il 10 e 11 maggio. Nel rugby la Fiorini-Pesero all'ultimo ballo casalingo non riesce a salutare il pubblico amico col risultato sperato. A Muraglia vince Valpolicella 18-14 con un successo colto al fotofinish. E dire che Pesero aveva chiuso in vantaggio 14-8 sospenta dalle mete di Palette-Larre Chart e le annesse trasformazioni di Jubert. I Kiwi restano però secco di punti nel secondo tempo e Valpolicella ne approfitta riemergendo per cogliere il successo. Domenica prossima, ultima di campionato in casa del Tarvisium.